Bentornati ragazzacci qua sul canale The Big Tree. In queste ore il web sta letteralmente scoppiando, ribollendo, a causa di una novità che pare aver sconvolto e cambiato i profili dell'universo NBA. E cioè il nuovo podcast di JJ Reddick e LeBron James, Mind the Game. Sigla! E di ritorno dalla sigla, faccio come JJ Reddick in chiusura della prima puntata di Mind the Game. Iscrivetevi a questo canale se non vi volete perdere neppure un video. Grandi eh? Mind the Game, il nuovo podcast di JJ Reddick e LeBron James. I due si ritrovano a Los Angeles, registreranno due puntate per volta e uscirà un episodio a settimana. Questo podcast è una novità nel mondo NBA perché, prima di tutto, è tenuto da LeBron James, cioè uno dei più grandi giocatori di sempre, e JJ Reddick, che comunque è stato un grande giocatore, ma è anche un ottimo commentatore per ESPN. È comunque un ragazzo molto sveglio che adora, come dice lui stesso, ed è ossessionato dal gioco, quindi dalla NBA, e parla appunto di quella che è la sua più grande passione, andando ad analizzarla in dettaglio e con un approccio il quanto più, diciamo, scientifico ed analitico, portando dalla loro la grande esperienza che hanno maturato negli anni di carriera e soprattutto la loro grande competenza. E, e questo sarà anche uno degli argomenti che toccheranno durante questa prima puntata, sono due giocatori che hanno sempre avuto una grande, grandissima, LeBron, una delle migliori, intelligenza cestistica. Però, prima di entrare nel vivo di questo video, che non si vuole porre come un'analisi che va ad ampliare i concetti che sono stati toccati nel podcast di Reddick e LeBron, no, quello se volete scrivetemelo qua sotto nei commenti, e vediamo quando c'è qualche argomento magari particolarmente interessante, che magari merita di essere approfondito ulteriormente. O comunque spiegato a voi, pubblico, diciamo, italiano. No, questo vuole essere un video, diciamo, una sorta di recensione, farvi sapere quali sono state le mie impressioni su questo nuovo podcast che promette di sconvolgere gli orizzonti della NBA. Allora, innanzitutto però vi dico che io odio visceralmente e con tutte le mie forze i podcast. Perché sono una modalità di fruizione di un contenuto che detesto. Io odio ascoltare i podcast, non li ascolto mai, mi fanno venire il latte ai coglioni, mi fanno esplodere le gonadi da quanto me le rendono gonfie. Però, fortunatamente, questo podcast è dotato anche della versione video qua su YouTube e quindi grazie al cielo me lo sono pappato tutto quanto ieri sera prima di addormentarmi. E vi devo dire che sono 43 minuti che filano alla grandissima. Scorrono veramente che è un piacere questi 43 minuti. Non ci se ne accorge nemmeno. Certo, uno deve masticare abbastanza bene l'inglese, però comunque si può aiutare con i sottotitoli generati automaticamente da YouTube. Quindi non è un'impresa impossibile seguire il podcast. Comunque, andando a dirvi quelle che sono le mie impressioni, prima di tutto, a livello di fotografia, quindi inquadrature, luci, eccetera, tanta roba. Bella atmosfera, rilassata, luce suffusa, queste bottiglie di vino sul tavolo da svariate migliaia di dollari, una del 2012, non mi ricordo che vino sia. Quindi Lebron subito ci fa capire quanto è il cazzo grosso, quanto beve vini importanti. 2012, questo è il dell'anno del mio primo anello. E se la beve ha la facciaccia nostra. Per farci invidia. Bastardo, schifoso, maledetto, stronzo. E comunque, quindi questa atmosfera rilassata, microfoni non in vista, e questo è veramente, eh, pollice su, tanta roba mi piace perché io odio vedere in video questa gente con questi microfoni enormi davanti alla bocca. Quindi veramente top. Atmosfera colloquiale, scialla, quindi benissimo. Da questo punto di vista si inizia alla grande. Poi ve l'ho detto, scorre che è un piacere. L'argomento trattato in questa prima puntata è cosa rende un giocatore grande. E quindi i due si interrogano per tutto il corso della puntata su questo. Reddick chiede a Lebron quali sono le tre caratteristiche che secondo lui rendono grande un giocatore. Io ovviamente non vi faccio spoiler perché la puntata è uscita ieri e quindi magari mi maledite se ve li spoilero. argomentano attorno a questi tre criteri, queste tre caratteristiche e poi Reddick a un certo punto pone il focus, quindi mette la lente di ingrandimento sull'intelligenza cestistica che secondo lui è il criterio principale che rende un giocatore grande. e appunto cominciano a disquisire su questo aspetto se sia allenabile o se non sia allenabile, quindi se ci si nasce totalmente oppure si può fare qualcosa. E da qui si apre qualche piccola digressione sul gioco presente, sul gioco passato, di come è cambiata la Lega da quando loro sono entrati dentro fino ad oggi. Tutte, tutte, ripeto, tutte, argomentazioni molto interessanti, toccano tematiche che raramente ho sentito trattare, quindi da questo punto di vista benissimo, è una novità. Parlano dei giocatori che secondo loro più hanno cambiato il gioco. Vabbè ve lo dico, dai vi faccio un piccolo spoiler, i giocatori che secondo Lebron hanno influenzato di più il gioco sono Stephen Curry e questo è legato alla rivoluzione del tiro da tre che come dicevano rende più difficile difendere, che rende molto più facile recuperare svantaggi anche di 19 punti come hanno fatto i Lakers contro i Clippers nel quarto quarto. Infatti qui fanno tutto il paragone con i loro esordi in NBA quando con più 17 ti facevano, svuotavano le panchine già magari con 9-10 minuti ancora sul cronometro da disputare e quindi Steph diciamo ha rivoluzionato il gioco cambiandone il tempo riferito al cronometro e lo spazio perché il campo si è per così dire allargato. E l'altro è Allen Iverson per Lebron James sempre riferito come anche per Steph alla sua stazza minuta quindi una corporatura normale che è stata fonte di ispirazione per tantissimi ragazzi. E Reddick qua dice che lui porta la gommitiera per proprio Allen Iverson. comunque tutto veramente interessante trattato in una maniera con un approccio che non è proprio abituale e quindi una buona novità sul mercato. Assolutamente non fa altro che bene e non è che di stimolo alla discussione. Però però ci sono dei però non è questa rivoluzione copernicana secondo me a livello di contenuti badate bene eh per la NBA o meglio a livello mediatico probabilmente lo sarà a livello mainstream probabilmente lo sarà perché si parla comunque di due personaggi Reddick e soprattutto Lebron che hanno un impatto sul pubblico disumano questo podcast farà numeri probabilmente mai visti prima e quindi andrà tanto ad influenzare e se continuano così come hanno iniziato la prima puntata influenzerà in positivo il modo in cui le persone si approcciano all'analisi dell'NBA e questo è un modo corretto assolutamente corretto secondo me e quindi per queste ragioni qua è molto molto positivo però non è la rivoluzione copernicana non è la presa di bastiglia dei podcast o comunque del metodo analitico riferito all'NBA comunque è un approccio che già c'era anche il nome stesso Mind the Game è un po' rimando a Thinking Basketball di Ben Taylor quindi non inventano niente certo il peso dei protagonisti è di quelli importanti è di quelli che ti fanno drizzare le orecchie il carisma di Lebron è tangibile l'intelligenza la witness di Reddick lo è altrettanto e quindi è un contenuto che si fruisce benissimo probabilmente il podcast che ho che mi ha fatto passare meglio il tempo di tutti i pochissimi che ho che ho sentito ma comunque anche come video di YouTube stesso è veramente fatto benissimo un capolavoro da questo punto di vista tanta gente dice finalmente si sposta l'analisi gestistica sul campo sul gioco vero e non più sul gossip ma qui ragazzi dipende uno cosa cerca se uno vuole chi analizza il basket giocato punto dando magari le sue impressioni o anche no o facendo una mera analisi di ciò che è accaduto si cerca determinati tipi di contenuto e sta anche al fruitore o comunque potenziale fruitore stesso indirizzarsi verso l'offerta che più gli aggrada perché comunque il mare magnum dell'analisi NBA comprende un po' tutto se a noi interessa un po' di più gli aspetti legati al fuoricampo comunque dietro le quinte è liberissimo di farlo perché comunque secondo me sono aspetti fondamentali anche quelli perché magari ti fanno capire come mai in campo sono successe determinate cose come mai quella squadra lì che sembrava magari destinata a vincere poi non ha vinto perché probabilmente sono successe cose dietro le quinte che hanno inciso negativamente o magari anche positivamente sui risultati in campo perché alla fine non è solo quello che succede in campo ma è anche tutto il contorno perché si parla ovviamente di squadre si parla quindi di persone che devono coesistere che devono puntare tutte nella stessa direzione e quindi anche sapere il tra virgolette gossip quello che molti chiamano gossip ma che secondo me gossip non lo è perché poi si ripercuote tutto sulle vite di questi campioni e quindi sui risultati sportivi va secondo me tenuta una lente anche su quello io personalmente preferisco fare analisi su quello che vedo in campo analizzare quello e parlare del gioco to court perché anche non ho i mezzi le conoscenze per andare a trattare degli aspetti fuori dal campo io parlo di quello che vedo parlo di quello che studio di quello che non studio non posso parlarne o comunque non mi sento in grado di proporvi un prodotto nel quale non sono sicuro al 100% di quello che dico e non vorrei mai dare informazioni false o in parte erronee errate per cui questo è un podcast interessante per come trattano la NBA come la analizzano parlano di campo parlano di set giocati dalle squadre parlano dell'influenza che i vari coach hanno avuto nella loro formazione cestistica parlano di quali sono le caratteristiche importanti per per far sì che un giocatore sia forte parlano dell'intelligenza cestistica se si può allenare se non si può però secondo me sarebbe interessante anche se magari James si sbottona un attimo comunque anche Reddick si sbottona un attimo e parlano di qualche di qualche interessante vicenda che è accaduta fuori dagli schermi ecco secondo me questo sarebbe molto interessante per per avere un quadro più ampio magari di qualche situazione che si è verificata in campo ma che magari ha avuto una scaturigine extracampo con i riflettori spenti quello sarebbe interessante ma non credo avverrà perché comunque sia Lebrone uno che non si sbottona mai più di tanto e quindi deve rimanere anche giustamente essendo un giocatore in attività secondo me e vista la posizione che ha abbastanza super partes soprattutto su giudizi su altri giocatori e Reddick stesso avendo contratto con ESPN secondo me anche lui non potrà concederci più di tanta diciamo libertà da questo punto di vista e infatti Lebrone quando durante più o meno la conclusione di questa prima puntata del podcast parla di Jason Tatum e dell'intelligenza cestistica è molto molto diplomatico ma veramente molto diplomatico dice cose vere ovviamente e probabilmente sono anche incontrovertibili però è assolutamente diplomatico quando dice a 25 anni ha disputato quattro finali di conference vedrete che migliorerà io ho vinto a 28 MJ a 28 Nicola Jokic a 27 insomma tutte cose vere però però Lebrone eh che lo sai io lo so noi lo sappiamo però insomma è veramente un tanta roba podcast veramente ottimo anzi eccezionale per quanto mi stia sui coglioni Lebrone James però eccezionale non sarà sicuramente la pannaccia di tutti i mali però l'impatto mediatico che avrà e che sta avendo sarà uno di quelli che probabilmente contribuirà a dare uno scossone al modo in cui si parla di basket si parla di NBA in tutto il mondo dunque il video finisce qua queste sono le mie impressioni su questo nuovo nuovissimo podcast targato Reddick e James Mind the Gap Mind the Game scusate quello lo dicono a Londra Mind the Gap e fatemi sapere se volete che analizzi per voi più approfonditamente qualche tema toccato in questo podcast che comunque darà sicuramente anche a me o anche a noi Big Three insomma nelle live diversi spunti di riflessione per analisi e per approfondimenti il video finisce qua e noi ci vediamo come sempre al prossimo video ciao ciao ciao